Buongiorno ragazzi, sei da Tenerife, allora oggi faremo un video spettacolo perché si mangia ovviamente lo sapete benissimo che quando si mangia è sempre una cosa positiva, questa è la debolezza mia allora oggi abbiamo una missione, dobbiamo riuscire ovviamente totalmente a caso quindi non andando a vedere su google maps quindi il primo ristorante che troviamo, dobbiamo riuscire a mangiare più cose possibili in due con 20 euro ovviamente mangiare bene, non è che vado da, non lo so, la bancarella che ti fa le noccioline, no ma hai diminuito chi fa le noccioline quindi cerchi tipo qua, io entrerei qua in questo qui e vedrei con 20 euro che cosa riesco a mangiare madonna le ribs, guarda che buone mi pio quelle sai, vediamo vediamo ragazzi Guido sta già chiedendo di mettere la partita del toro abbiamo il menù, quando ti rendi conto che l'Italia non conta niente nel mondo, guarda eccoci ragazzi aperitivo sì, avevo appena acceso la telecamera è arrivato l'aperitivo allora queste sono crocchette di che cosa, assaggia così mi dici subito di patate sicuro vai papi assaggia vai dentro patate, no, c'è una fonduta no, è aglio è aglio, adesso assaggia anch'io cos'è? aglio prosciutto jamon ha detto che ci sono sia così col prosciutto e formaggio che sia col baccalà sia chiaro eh, questo è offerto non fa parte del menù ce l'hanno offerto perché siamo bellissime io sono bella no, non è perché hanno visto che abbiamo una telecamera e potremmo fare pubblicità però raga, aspetta è buonissima questa cremina qua è formaggio con prosciutto cheso e famon serrano che vabbè detto in modo corretto come ha detto lei ragazzi sono arrivate le prime portate questo è un formaggio fritto con marmellata spettacolare questo Alice presentalo tonno, peperoni, pomodori, cipolla tutto insieme con l'aceto buonissimo questi ancora friggono saranno bollenti uscionanti guarda sono pezzi di pollo in aglio c'è scritto in aglio quindi non ci avviciniamo a nessuno questi sono i calamari fritti fritti e deve arrivare ancora deve arrivare l'ultima portata guarda Guido com'è contento oh questa questa è una salsa spettacola oh guardate l'ultima patatine per Guido raga questa salsina qua voi non avete idea è la fine del pianeta terra e Mirko l'altra volta se ne è preso mezzo chilo allora questo è il piatto che ha preso mio papà che ovviamente è fuori è tutto insieme tutto insieme costa 6,50 è fuori dal nostro menù questa invece è tutta la nostra roba nostra questa invece è tutta quella che abbiamo preso noi guardate oh questi mi piacciono tantissimo assaggiamo assaggiamo che cosa consigli di assaggiare tu questi oh c'è anche il pane allora raga la prima cosa che devo fare ovviamente con ali e oli questa salsina è la vita si 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 ecco non lì ecco non lì buono questa ragazzi è la salsa più buona del mondo allora io assaggio subito il camembert fritto con la marmellata no ragazzi non avete idea è buonissimo allora assaggiamo quanto è buono dillo ok mio papà piace tantissimo la carne Mirko sta facendo il vis di marmellata Guido devi assaggiare questo assaggialo e dici com'è se prima digerisci altrimenti questo è camembert camembert fritto con la marmellata di mirtilli mamma guarda che faccia che fa vietato vedere questo video quando si ha fame allora io prendo un po' di questo e secondo me è buonissimo questa mi sa tanto di un'insalata molto semplice però non mi scandalizzo di te vado è buonissimo grazie il tonno appena pescato allora assaggiamo il tonno buono vero? il tonno si sente che è buono è un'insalata di tonno ma è appena pescato l'ha detto eh? ah è appena pescato ma guardate ma non vi viene voglio di mangiarlo raga assaggerò il pollo il pollo all'aglio vai allora voglio ancora un po' vai ancora un po' io questa è la pessima Mirko allora assaggiamo il pollo eccola la faccia di chi sta godendo è piccante è piccante ah si lo vedo da qua il peperoncino guardate c'è il peperoncino mamma mia provo anch'io questo pollo anche se Mirko dice che secondo lui non mi piacerà perché è troppo piccante proviamolo subito ce l'ho detto non è vero? ma è buonissimo adesso assaggi i calamari maionese e i calamari fritti spettacolare non so veramente cosa dire a me piacciono i calamari sono buonissimi ma guarda anche guarda faccio come fanno le influencer con i trucchi però con i calamari fritti ma raga ho una domanda qual è? teniti forte ma se metti lo zucchero nei calamari diventano caladolci oh che cazzo calamaro fritto con salsa al ajo guardate guardate raga allora una piccola nota negativa secondo me è la pastella troppo spessa si è vero però è muy muy bueno ora la parte più bella io io no dico la parte più bella non sono io ah no non sei tu ah ok ragazzi voi dovete sapere che io vado matta papà quanto lo sai quanto mi ha quanto amo gli affettati io lei ama gli affettati ecco perché me lo me la fa sempre affetto ogni volta questo formaggio non so quale sia ma questo prosciutto è il jamon serrano che è un prosciutto tipico spagnolo ora lo provo senti ma uno che vuole prendere poi un po' di olio come fa? sapete perché me l'ha chiesto preghi la telecamera è appoggiata qua sopra sopra l'olio grazie prego mi metti l'aceto così riappoggi la telecamera buonissimo comunque buonissimo allora abbiamo chiesto il conto adesso ce lo porteranno ora scopriremo no scopriremo tante in realtà lo sappiamo già pagheremo all'incirca 23 euro però raga avete visto quanto abbiamo mangiato ecco una cosa importante che hai detto Guido che le bevande sono escluse c'era tanta roba c'era tantissima roba e abbiamo mangiato in tre ah è vero le nostre tapas che erano per cinque le ha assaggiate anche Guido eh esatto anche mio papà le ha mangiate però sono bastate per tutti e anzi è avanzata della roba esatto sapete che noi mangiamo come dei porcelli quindi noi? io no anche tu dai anche tu Ale oh grazie con il ron ganario grande che bello oddio c'è lo stivale sì l'Italia l'Italia guardate cosa fa sì bonito come si dice? molto bonito molto bonito molto bene molto bene ragazzi io sono le dita dentro i bicchieri per camminare ma si tanto è proprio igienico è inteso lui certo un saluto un saluto alla Italia viva Italia ok raga incredibile avevi detto 23 e siamo arrivati a 23 facciamo vedere 23,49 che comprende l'agua sin gas e menù 5 tapas a 19,95 euro e in più due caramelle gratis e in più l'antipasto gratis e in più questo qua gratis alla salute Guido aspetta aspetta uno due tre quanti calci ci siamo dati quanti calci che battuta orribile che battuta mi sono conosciato la domenica Mirko mi dice di berlo con lui Aliu vacci piano alla nostra alla nostra che rimba che sono sti due è veramente buono ah beh voi direte 19 più 2 non fa 23 perché c'è 1,54 euro di servizi assolutamente soddisfatto e vi ricordiamo un'ultima cosa che questo posto l'abbiamo scelto a caso a Tenerife Sud che è la parte diciamo più turistica quindi anche più cara assolutamente soddisfatto approvato approvato veramente al nord secondo me costa ancora meno sì 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 una parte meno turistica poi lo vedremo magari anche in altri ristoranti fateci sapere sotto nei commenti se vi farebbe piacere vedere appunto un altro video che fai non mangi infatti deve mantenerla quella falla vedere bene sì lui la fa vedere con la maglietta sai per parare invece devi farla vedere così devi farla vedere aspetta io voglio vedere caralice se avrai il coraggio di prenderti ancora in giro a gennaio del prossimo anno quando avrò un fisico scolpito quando farò la dieta sono più o meno all'incirca due o tre anni che dice sempre la solita frase adesso la faccio veramente perché mi stufate dire che sono grasso ok sfida accettata eccoci ragazzi ragazzi siamo tornati siamo abbastanza soddisfatti la mia trippa lo può appunto testimoniare in questo momento mi stufate ho detto oh fai un po' schifo alice ma scusami comunque volevo dire una cosa scusate ma voi li rendete il fondo adesso noi diciamo ah ma si 23 euro si ma 23 euro per quello che abbiamo mangiato è niente è niente è veramente niente è niente ho mangiato tantissimo comunque ragazzi se siete contenti che in questo periodo vi stiamo lasciando tantissimi video perché veramente stiamo caricando un bordello di video scrivetecelo appunto qua sotto e noi ne saremo molto felici noi saremo molto felici di questo vuol dire che il nostro lavoro è servito a qualcosa bene ragazzi lasciate tantissimi like e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi il mio naso la cosa più bella del mondo il mio naso lascia un commento metti mi piace cosa ti costa dai che sei gammaggio la coppia che scoppia se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale la coppia che scoppia sono come noi la vita di coppia vissuta da eroi la coppia che scoppia è un'esplosione Mirko e da lì c'è dentro il nostro cuore e all'esplosione Grazie a tutti.